Musica Musica Allora, ciao a tutti i guerrieri e guerrieri, sei il love? Questo è un vlog, saranno dei vlog spezzettati, uniti. Oggi è il terzo giorno che sono qui, a Bosco Reale, nella mia terra di origine. E a parte che sto molto bene, a parte che ho avuto dei problemi di salute allo stomaco, però niente di virale. Il viaggio lunedì è stato un po' faticoso, due treni ho potuto prendere per arrivare qui, però alla fine verso l'una alle due. Sono arrivato qui dalla mattina, che adesso ero partito a Firenze alle nove. E questi vlog saranno, non saranno spezzettati, saranno messi un po' così a casaccio. O sarà un ito, è un unico vlog che vedrete solo a inizio ottobre, fine settembre, non lo so ancora quanto. Qui c'è il sole, ieri c'era un brutto tempo, il telefono mi sta anche per lasciare. Quindi cosa posso dirvi più? Sono molto contento perché vedo molte persone che mi seguono su Instagram. e quindi a parte questa cosa, sono molto molto felice. Sto studiando per degli esami che dovrei dare a dicembre, devo dare di nuovo a dicembre storia greca, quindi è molto impegnativo. Qui procedo tutto bene, a parte i miei parenti, a parte il figlio di mia cugina, mio cugino di 8 anni, cerco un po' di... non sono ancora uscita da casa, penso oggi pomediggio con mia madre, andremo nel paese, però non lo so. Allora, pezzo conclusivo, conclusivo del vlog, del primo vlog, il telefono mi sta abbandonando, quindi lo devo chiudere. Stavo dicendo appunto, andrò nel paese e quindi però è madre, non ama rifarsi riprendere da mondo YouTube. Su Instagram, su Google, andrò delle foto, come potete vedere, avete potuto vedere chi mi seguì dall'inizio, se no trovate nell'info box tutti il mio Instagram. Quindi, io vi saluto e ci vediamo nei prossimi vlog, se li farò. Ciao, guadire, guadire, sei no. Ciao. 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 Grazie. 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 Grazie.